Allora, io mi chiamo Andrea Dell'Alena, sono il titolare di questo ristorante, che nasce nel 1988. Nasce come Pub Paninoteca e nell'arco degli anni si è voluto e diventato ristorante. Io sono anche il cuoco di questo ristorante. Per il giro gastronomico dell'Umbria oggi andiamo a preparare un piatto che io propongo regolarmente ai miei clienti e ha un notevole successo. Sono chitarrina all'uovo con ragù bianco di chianina. Adesso andiamo a preparare il piatto. Abbiamo praticamente fatto le spaghetti alla chitarrina all'uovo. Poi ora ho questo soffritto, che abbiamo fatto il serano, la cipolla e questo è un maglio di chianina. Praticamente farò soffriggere il soffritto, gli odori, verserò questo, vino bianco, lo farò sfumare e poi ci salteremo la pasta. Abbiamo messo l'olio, gli odori e li faremo soffriggere. Una volta soffritti, butteremo il macinato di chianina. Mettiamo anche un po' lo smarino. Al prossimo tempo, ci sono la cipolla. con un po' di vino bianco. 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 Con un po' di vino bianco.